Cioè, attenzione, poi adesso sono in onda i telegiornali quelli ufficiali, il Tg1, il Tg5, il Tg55 e immagino che ci sarà sicuramente, ho visto oggi su Rai News 24, oltretutto una televisione pubblica, era l'epopea di questi salvatori delle vite umane che hanno detto no, non mandateci più acqua a bordo, non ci serve, porta via troppo spazio l'acqua, poi tre minuti dopo dicono che dobbiamo entrare in Porto Lampedusa perché non abbiamo più acqua. Ma come? Ti mandiamo l'acqua e dici no, e poi ti lamenti per il fatto che tu non abbia l'acqua ed entri in Porto, ignorando le leggi, ignorando i divieti, saresti già arrivato a Malta, da ore. Evidentemente è un attacco al governo italiano, e mi permetto di aggiungere, è un attacco al Ministero dell'Interno.